Buona idea! Anche se hai trovato l'uomo della tua vita e a 13 anni il suo internet sarebbe da record del mondo, cosa c'è di meglio che condividere un sentimento così forte? Altro che segreto! Damiretta, hai bisogno degli amici, di ridere, divertirti, anche di punti di vista differenti. E poi, possibile che nessuno ti capisca? O sei tu che stai vivendo in un mondo separato da tutti, o magari è proprio lui che sta cercando di isolarti da tutti? Eh sì, hai proprio bisogno di amici.